Permette in 12 lingue di parlare con tutti quelli che risiedono abitualmente nella nostra regione nella propria lingua. È una forma di attenzione, una spinta verso la prevenzione che ha una grande importanza. Aderire lo screening significa fare del bene a se stessi, perché si affronta un'eventuale malattia prima che questa possa diventare difficile da gestire. Significa risparmio per la sanità pubblica, perché prima ci si cura, meno costose sono le cure. È un'azione assolutamente positiva, un'app prima in Italia che parla di screening in tutte le lingue, la volontà di aumentare sempre più l'adesione alle visite agli esami.